Questo rapporto o nasce presto o nasce morto o non nasce affatto. Io ho avuto fortuna in questo senso, sono stato spesso malato da piccolo, sembrava che dovessi morire da un giorno all'altro, ero considerato un po' spendibile. E allora la mia compagnia, non furono i compagni di giochi dell'infanzia, ebbi la gran fortuna di non dover andare a scuola regolarmente, i miei amici erano i libri. E mi capitò una cosa strana, mi capitò di leggere per esempio libri di filosofia, faccio un esempio, i dialoghi di Platone, quella bella edizione La Terza, e di averli letti come libri d'avventura. All'epoca scoprì che in fondo, senza rendermene conto però, scoprì in maniera inconsapevole che i dialoghi di Platone sono delle grandi, sono romanzi d'appendice. E allora, da allora ho cominciato a vedere nel libro un compagno, un compagno di solitudine, un compagno di avventure intellettuali, in qualche modo senza rendermene conto, era un ragazzino, ma sempre a casa mia, essendoci poca altra roba, ma molti libri polverosi, di qualche cugino, qualche zio, qualcuno ci doveva essere stato, venivo isolato al terzo piano, in questo castello di roccato, cadente, e lì leggevo, leggevo, tutti i giorni, e in qualche modo sognavo, e imparavo che i più bei viaggi si possano fare standosene a casa, accanto alla stufa. Questo era l'inizio del mio amore sensuale per i libri. Tutto questo accadeva in un paesino del vercellese chiamato Robella, e quindi, in qualche modo, i libri mi hanno accompagnato durante la primissima infanzia, fra le colline alte da una parte, Cammino, Canterenne, e dall'altra le risaie. Io sono nato uomo di montagna e uomo di pianura, uomo, diciamo, di collina e d'acqua, di palugno, cioè di risaie. E qui forse ho visto, lo vedo adesso, non allora, ho visto il segno di un destino, un destino, come dire, anche ambiguo, ambivalente, quantomeno, perché sta fra la materia prima calcarea, queste colline alte dove ci sono miniere di cemento, e sono poi quelle di Casale Monferrato e così via, lungo tutta la costa del Po. E d'altra parte, però, anche uomo d'acqua, uomo del riso, delle paludi, di queste distese d'acqua non abitate, che hanno una loro straordinaria malia sul viaggiatore, perché in fondo indicano una terra in cui non si può vivere, ma da cui non si può prescindere, perché dà da mangiare. La mia esperienza scolastica è stata quella di un'autodidatta. Io mi sono presentato agli esami di licenza ginnasiale, e poi due anni dopo, allora era possibile, liceale, sempre da privatista, preparandomi su quei dépliants che venivano distribuiti dal ministero, ovvero come ci si preparava, da privatista, quindi non esattamente ben voluto, al quale io ho sempre considerato, in effetti, la scuola, anche la migliore delle scuole, anche quella Montessori, in realtà, come una struttura burocratica, che inradisce, colpisce, umilia, a volte addirittura distrugge l'involontarietà del pensiero, l'ispirazione personale, il gusto per la lettura e la ricreazione simbolica, immaginata di ciò che si legge. Detto questo, però, non vorrei essere frainteso, la scuola io la ritengo molto importante. Se noi abolissimo le scuole, dovremmo tornare al vecchio precettore del Settecento, e solo per chi se lo poteva permettere. Quindi, nessuna abolizione delle scuole, riforma dall'interno, semmai. Le scuole sono importanti perché è lì che io trovo i giovani, è lì che c'è l'incontro dei discenti e dei docenti, è lì che, in sostanza, può avvenire quella collaborazione straordinaria, non immediatamente utilitaria, che è poi al fondamento della formazione personale. Io dovevo, in realtà, ufficialmente abitare a Sanremo, dai miei parenti. Ma i miei parenti, dopo qualche tempo, evidentemente, mi trovavano a dir poco, come ancora oggi la gente a volte mi trova un po' scocciatore, irrequieto, diciamo così, poco comunicativo e così via. E allora cosa accadeva? Niente. Che mi hanno messo a dozzina nel punto più lontano e sperduto da Sanremo, l'entroterra Ligure, verso il 37-38, prima della guerra, direi è l'epoca che, per quanto mi riguarda, potrei definire della tarda infanzia e primissima adolescenza. Cioè, gli anni della mia socializzazione primaria, quando un uomo cresce, si forma, un ragazzo diventa un giovanotto e poi il giovanotto diventa un adulto, beh, sono stati fortemente condizionati, prima dalla malattia e poi per non ricadere nella malattia delle virie polmonari, non Davos, non la Svizzera, i miei non avevano i soldi, ma Sanremo, e poi l'entroterra Ligure, ma sempre a casa del diavolo, lontano, cioè a Ciabaudo, per esempio, dove non arrivava la strada, ma solo una difficile muratiera. E allora, nonostante tutto, dei rapporti c'erano, il bambino si faceva ragazzo, il ragazzo diventava uomo e a poco a poco finalmente scopriva la vita. Arrivare, scendere, a volte in mezzo alla neve, neve alta, enorme, scendere a Badalucco, era come ritrovare la vita di una grande città. Oggi la guardo ed è veramente una piccola, piccola città. Proprio qui, del resto, nel cuore vivo di questi centri medievali, queste pietre dure, il cuore tuttavia era dolce. Qui si giocava, non c'erano pericoli, non c'era il traffico, ci si rincorreva in questo dedalo di stradine, si giocava a guardie e ladri, ma si giocava anche a fare il medico, c'erano anche delle lotte, e io ero un mingerlino, avevo sempre la peggio, ma solo fino a un certo punto, perché sfoderavo le mie armi difensive, che consistevano in un sistema semplice. Mi avvigliavo il nemico, cercavo allora di prendergli, non un mignolo, e cominciavo a girare il mignolo come una manovella, e il poveretto, grande, corputo e forzuto, crollava a terra, in pianti disperati. In pochi minuti sono arrivato a Ciabaldo, dalla valle, dalle prese, e una volta, un tempo mi occorreva, 70 anni fa, mi occorrevano quasi due ore, un'ora e mezzo di sicuro, aiutato soltanto da un vecchio canelupo di nome Beppi, che in realtà spesso aveva più bisogno di aiuto lui che non io stesso. e devo dire che oggi mi trovo in questo posto del tutto isolato, l'ultimo pugno di case, a cui bisogna giocoforza arrestarsi, e qui vivevo per i miei mesi estivi, facevo le mie prime esperienze, e ci arrivavo mica in linea diretta, che io partivo presto la mattina in treno da Trino, Trino-Vercellese, alla volta di Casale-Monferrato. A Casale cambiavo e andavo ad Alessandria, ad Alessandria finalmente prendevo il treno e andavo dritto alla volta di Genova, ma non a Genova, mi fermavo prima a San Pierdarena, altro cambio, il treno per la riviera di Ponente, fino a San Remo. E a San Remo ci stavo un po', poi i miei parenti mi avevano messo a dozzina, come si dice, presso una famiglia deliziosa, Marietta, la moglie, giovane moglie, e Juan de Pan, l'uomo del bosco. Devo dire che questa bravissima famiglia mi manteneva come del resto vivevano tutti gli altri, i pochissimi ragazzi del luogo. Non è una meraviglia, non fa stupire per niente che più tardi questo fosse un punto forte della resistenza partigiana. Io credo che siano ancora ricordati, là vedo adesso una lapide, sono certo ricordati. Vogliamo andare a vedere dove io ho abitato per qualche tempo in maniera molto piacevole. Ecco, questo di nuovo si scende, questo è tutto originale, questo è veramente, questa è la ciabaudo della mia tarda infanzia e della prima, primissima fase dell'adolescenza. Molto bello, sette anni, otto anni, per delle lunghe, interminabili estate hanno rifatto tutto. Io scendevo qui e qui c'era una casetta, è tutto rifatto ormai. La modernità, la globalizzazione impazzano e distruggono la storia. Ecco, qui addirittura c'era una piccola edicola con una madonna e anche qui è tutto nuovo, tutto nuovo. Che peccato. Però questa pietra resta. E qui naturalmente ci sono persone che fanno l'agriturismo, un giorno è stupendo qui. Guarda, che meraviglia. Ecco, è arrivato anche il PB gas. Non c'era all'epoca elettricità, non c'era acqua, non c'era niente, c'era solo la legna da ardere che la si portava via a Mansalva ovunque, era ovunque. La si prendeva da Monticeppo. Andiamo a vedere Monticeppo. Monticeppo lo vedevo dalla piazzetta della chiesa uscendo da qui dove abitavo, piano terra, in un'uscia come questo, al fondo. La casa era esattamente dove adesso c'è quella cassetta postale. Ecco, quell'uscio là. E devo dire che qui anche ho fatto le mie prove, le mie prime prove del rapporto con l'altro. Noi lo diciamo sempre, muovere verso l'altro vuol dire mettersi, diciamo, entrare in una zona di mistero. E questo è vero perché gli altri sono imprevedibili, a parte il fatto che noi stessi, a noi stessi siamo imprevedibili. però poter scoprire l'altro senza la mediazione elettronica, senza il traffico metallico, senza, diciamo, i mille fronzoli inutili di una società, tecnicamente progredita, ma umanamente spesso imbarbarita, questa è una grande fortuna. io ricordo con gratitudine i giorni di solitudine, la ricerca per la legna, gli innocenti, più o meno innocenti, i giochi con i pochi coetanei, in questo posto oggi sono rimasti in cinque. all'epoca forse eravamo verso i cinquanta, forse cento, e c'era più vita evidentemente, ma ancora oggi io sento, trovo quella quieta atmosfera di un tempo, soprattutto manca ancora oggi quella frettolosità golosa di vivere che impedisce poi di gustare la vita. Voleva dire vivere il tempo fuori dal tempo. Io ho fatto regolarmente solo un corso di studi, quello elementare, tre anni con la scuola, con la maestra Piera Mandelli, due anni con il maestro Francesco Rossino e poi, prima però di questo e durante questo, questi anni, tutte le vacanze, diciamo così, esiliato in questo luogo che non era neppur segnato sulle carte topografiche. Queste sono montagne che conoscevo veramente molto bene, più delle mie tasche, me ne andavo proprio spedito e ammenadito da ciabaudo. Attraversavo con la piccola gola, poi riprendevo questo costone e sempre tagliando in linea d'aria, spesso senza il vantaggio e il beneficio di un sentiero, scendevo e arrivavo a questo santuario detto della Madonna delle Nevi. Importante perché? Perché questo era il santuario che segnava esattamente circa, non proprio esattamente, approssimativamente, il punto centrale, la metà del viaggio da Ciabaudo a Badalucco. E infatti, qui c'è il retro del santuario della Madonna delle Nevi, lì vedo con molto piacere ancora perfettamente conservata la tavolata dove ci si ristorava, io ragazzotto mi imbucavo in qualche gruppo di pellegrini e si beveva e si mangiava e laggiù, ecco, scendevo poi a rotta di collo, è il caso di dire, perché questo è veramente una discesa quasi, è un diruppo, vero? Scendevo verso Badalucco che l'ha sul fondo. Sanremo era una città deliziosa, era il luogo privilegiato dove le ricche signore inglesi venivano a svernare dolcemente come una specie in via di estinzione, infatti stavano scomparendo. Sanremo era in sostanza dotata di un clima mitissimo, protetta da queste montagne, le prealpi marittime alle spalle, questa insenatura deliziosa e aveva acquistato anche in letteratura il famoso romanzo del dottor Lorenzo Benoni uscito a Londra, vero? Che esaltava, forse come Ruskin con le pietre di Venezia e le mattinate fiorentine, esaltava questo posto. Io arrivavo a questa, che era la piazza, ed è la piazza Colombo, ma che all'epoca, provenendo dal quartiere di San Martino, attraverso Corso Garibaldi, si sboccava, si sfociava, si può dire direttamente, questa piazza, che era una piazza non livellata, non ripianata come oggi, ma era in lieve pendenza verso Corso Matteotti e poi verso il Casinò. E da questa piazza si vedeva il mare, non solo, si arrivava qui e si veniva come colpiti inebriati da una visione incredibile, per cui veramente Sanremo finalmente meritava il suo nome di città, capitale dei fiori, perché c'era una sorta di eruzione floreale, tutte le mattine, tutti i giorni, proprio qui, a questo punto. Qui c'era una sorta di... La piazza era quasi tutta colma di fiori, questa specie di vulcano floreale e d'altra parte, direi che propendendo verso Occidente, guardando in quella direzione si vedeva il mare, arrivare qui era come entrare in una sorta di valalla. Abitavano nel quartiere, diciamo più povero, relativamente parlando, nel quartiere di San Martino, quasi di fronte al palazzo sportivo, dove passava la vecchia ferrovia e che normalmente mi dava il tempo, che io vivevo un po' fuori dal tempo, studiavo, passeggiavo, impazzivo, ma era meraviglioso. A Villa Spinola andavo a rubare i libri ai tedeschi, poi naturalmente, poi naturalmente, quattroquattro, piazza del municipio, vecchia piazza del municipio, di fronte alla chiesa dei Gesuviti, i libri. ero l'unico avventore, cliente, affezionato, un vero habitué della biblioteca civica di San Rebo. Leggevo i libri del 1880-1890, i libri dei primi sociologi italiani, Lombroso, Ferri, Savornia, Squillace, Niceforo, che faceva le grandi ricerche sulla pellagra nel Veneto. Erano tempi deliziosi, perché poi me ne venivo giù, uscivo la sera dalla biblioteca, andavo lungomare, si incontrava, devo anche dire, è giusto dirlo, con riconoscenza, con devozione. Si incontrava qualche ragazzo, qualche ragazza, e iniziava così l'educazione sentimentale di un provinciale piemontese srazzato, che era capitato per caso in una delle poche stazioni balneari cosmopoliche d'Italia. Questa è una piazzetta deliziosa, con l'entrata, in una specie di succo, una medina proprio di Sanremo. Questa chiesa, di Gesuiti, era, insieme con la biblioteca vecchia, in piazza del municipio, tutto questo era il cuore di Sanremo, ed era il cuore della mia vita. Qui io veramente vivevo, emergevo da Piazza Colombo, arrivavo a Piazza Cassini, un po' di chiesa, ma poca, molta biblioteca, e salivo, c'era un grande stanzone, pieno di libri, e purtroppo anche di polvere, perché c'era una sola persona, oltretutto anziana, e un po' acciaccata, come tutti gli anziani, c'erano poi delle finestre che davano sul retro, dove io potevo, di tanto in tanto, per sollevare lo spirito, per distendermi, e che ero stanco di stare, chino sui libri, dare un'occhiata al mercato, e a un lavatoio, un lavatoio che è stato ovviamente, è stato rinsanato, cioè eliminato, dove peraltro io ammiravo, queste lavatrici, diciamo pure, con il basso schiena per aria, che stavano lavando, in maniera molto assidua, io tornavo subito ai miei libri, perché questo era per me, un esempio, di attenzione al proprio lavoro. Grazie a tutti. Qui arrivavano, in numero sempre maggiore, con grande soddisfazione, di alcuni qui nella popolazione, gli ufficiali nazisti, gli ufficiali della Wehrmacht, dell'SS feriti, e anche quelli della Luft, forse evidentemente, ora venivano qui a guarire, venivano qui a prendere il sole di Sanremo, a respirare l'aria buona, leggevano, leggevano buoni libri, e i libri classici, Goethe, naturalmente, il Faust, ma leggevano anche libri molto nazisti, uno addirittura, parecchi altri, ma fra quelli che io sono riuscito a trafugare da qui, insinuandomi, vero come amante dei libri, ma non degli ufficiali nazisti feriti, c'era quello di Forenzo, per esempio, di von Mühlendorf, del Dritte Reich, il Terzo Reich, e poi le novelle di Theodor Sturm, e così via, e devo dire che da questo punto di vista, ho dato anche un mio piccolo contributo, nell'alleggerire le fatiche letterarie, di quei poveri feriti, a cui non va il nostro misericordioso ricordo. I libri, per cui francamente non veniva manifestato dagli ufficiali nazisti, è venito un grandissimo rispetto o interesse, venivano accumulati in uno scantinato. Io mi resi conto molto presto, primo, che erano libri di un certo valore, non solo per le bellissime edizioni del Goethe, del Faust, del Goethe, in caratteri gotici, meravigliosi, in edizione cartonata, in questa edizione, anzi, erano quasi in pelle, o similpelle, con fregi in oro, non solo, ma anche quelle più semplici, più andanti, che riguardavano per esempio la geopolitica, secondo i nazisti, erano in uno scantinato. Io arrivavo qui, quattro quattro, e come fanno tutti i veri, accreditati ladri di libri, siccome allora non c'era il controllo elettronico, che oggi naturalmente ha ridotto le nostre possibilità, ecco io me le, arrivando qui con un ampio capace soprabito, impermeabile soprattutto, se il tempo era un po', diciamo, dubbioso, tant'è che il portare un impermeabile fosse reputato perfettamente naturale, io riempivo le tasche di questo capo di vestiario, e di colpo da magro e mingherrino che era diventato invece una persona piuttosto corpulenta, quattro quattro me ne andavo via, tranquillo, nessuno mai si è accorto di niente. Devo anche dire che probabilmente questi libri erano, diciamo, aperti, pronti, disposti per il pubblico, perché? Perché si pensava che in questo modo una parte della cultura tedesca, e nel caso nostro più che tedesca è nazista, sarebbe stranamente penetrata nella popolazione italiana. Qui anche ascoltavo, potevo avere le mie brave lezioni di tedesco, non solo, avevo dai preti polacchi al sommo della passeggiata imperatrice, lezioni gratuite di polacco, non solo, a parte il tedesco, l'inglese, il polacco, andando verso Arma di Taggia, in via Primavera, all'altezza più o meno della Breeze, che oggi si chiama giustamente la Brezza, e io avevo al numero 30 o 33, credo, trovavo la dolcissima Marianna Botkin, figlia del medico di corte che aveva dovuto fuggire dalla Russia per la rivoluzione del 1917, trovavo anche da lei le mie prime lezioni di russo. Ho poi soprattutto incontrato dalle parti del porto delle splendide persone dal punto di vista della classe di appartenenza, operai, quelle persone a servizio qui per lo più, ma che proprio nel far bene il proprio servizio realizzavano se stessi e conoscevano i misteri, i segreti di molte famiglie. Una volta, come già a Nizza, anche qua a Sanremo, vedevo il paradosso per cui i ricchi, non sapendo che fare del loro denaro data la guerra, non potevano che spenderlo, anche in frivolezze, ma in questo modo aiutavano senza proporselo le classi più povere. Ma questo è mentone, no? Eh sì, questo è mentone. Io qui soprattutto in questa splendida Côte d'Azur fino a Nizza, da Ventimiglia, Spedaletti, Bordichera, Ventimiglia, poi a Volglie-sur-Mer, Menton e così via. Ero al mare, c'era il sole, c'era l'aria buona, non c'era più la nebbia e neppure, diciamo, non c'erano più le paludi delle risaie, non c'era il cemento delle cementerie, delle colline. Stavo bene. Vivevo un po' alla giornata, con un grande progetto intellettuale in mente però, con un senso di autoconsaporezza di quello che avrei fatto. Io devo studiare, capire, per esempio, le lingue, una lingua, tutte le lingue, fino alla urlingua, la lingua delle lingue, la madrelingua indoeuropea, che forse non esiste, ormai i linguisti hanno deciso che non esiste, non ha importanza. E quindi questo, uno studio leopardiano, come dicevo Leopardi, matto e disperatissimo, e tuttavia mai un'ombra di pessimismo escatologico, ovunque io arrivassi, come un cavaliere medievale, cercavo la biblioteca. era la mia grande chiesa, la mia cappella privata, e lì mi isolavo dal mondo e studiavo, e scrivevo, e fantasticavo. Perché c'è da questo da dire, la gente pensa che l'infanzia, quella del mio periodo infanzia è anteguerra, l'infanzia sia in sostanza qualcosa in cui si gioca, non è vero, si fantastica. E parlano anche dello stupore infantile, ma per l'infante, per il giovinetto, tutto è normale, non c'è stupore, albe, tramonti, qualunque, i libri, la gente che si incontra per strada, nulla, i fiori, quello che era splendido, qui nella costa, la Coda Azur, e poi nella costa dei fiori, devo dire quel che era meraviglioso, la lontananza e l'estragnamento rispetto al luogo d'origine. Io da allora ho continuato a girare il mondo e non mi sono ancora fermato. Io venivo qui a Nizza, stavo benissimo, me ne andavo tranquillo per la promenade de Jean Glais come un gentiluomo inglese di campagna che vive con i proventi della Compagnia delle Indie. Foro un anno per me meravigliosi. Promenade de Jean Glais, Hotel Rue, l'hotel Negresco, il grande hotel dei plurimiliardari, benissimo. Io allora, in Boulevard Massenat, alla biblioteca comunale di Nizza, io trovavo, leggevo i libri di Émile Durkheim, il caposcuola della sociologia francese. E mi interessava perché? Ma perché Durkheim aveva cominciato come filosofo, poi diventa pedagogista, poi finalmente sociologo. Un momento, che cosa leggevo? Le sue regole del metodo sociologico, in cui, per non cadere nello psicologismo, che lui odiava, anzi non riconosceva la psicologia come una scena, e per non cadere, d'altra parte, nell'idealismo, Durkheim ci diceva che, scriveva letteralmente, che i fatti sociali vanno studiati come cose, e poi tu diele fessero solo come des choses, come delle cose, come niente, come una sedia, come un tavolo. E trovarmi qui stamane, in questo sole, dopo tanti anni, per me è bello, è straziante, nello stesso tempo, non è, non è certamente, solo nostalgia dolciastra, perché io ricordo, che qui c'era anche, diciamo, veramente, quello che potrei chiamare, l'inesprimibile, felicità, di cui ci si vergognava un po', dei sopravvissuti, di coloro, che durante quella guerra, non facevano la guerra, perché il governo Vichy, il governo Pétain, questa è la Francia non occupata, non occupé, qui dunque, io si può dire che ho vissuto anni, che oggi si chiamerebbero formativi, certamente anni straordinari, potevo trovare i libri che mi servivano, e qui, devo dire, mi è venuta l'idea, l'idea della, di fondare anche in Italia, i quaderni di sociologia, leggendo, Emile Durkheim, leggendo il Cagliezzo Sociologie, mi dicevo, fra me e me, da ragazzotto sprovveduto, da ragazzotto sempre alla fame, mi dicevo, ma perché non fare qualcosa del genere, anche in Italia, che male, perché, perché non fare una piccola rivista senza mezzi, autonoma, che riesca a far valere una pungente critica all'attualità, senza esserne a rimorchio. La precocità, c'è una tradizione piemontese, non dimentichiamo che il giovanissimo Piero Gobetti, che era uno naturalmente dei miei eroi, se non un mio eroe, perché lui oltretutto ha scritto Risorgimento senza eroi, era uno dei miei autori preferiti, a 16 anni, più o meno all'età in cui io fondavo una piccola rivista sconosciuta, chiamata Progredi, aveva fondato Energie 9, a poco più di 20 anni, fondava la Rivoluzione Liberale, Io più tardi avrei fondato, senza rendermi pienamente conto, la Rivoluzione Umana nel 46, che fu bruciata da fascisti e comunisti in piazza. Ora, io debbo dire, debbo con molta chiarezza dire, che fuggivo da tutto questo e in qualche modo vivevo la mia precocità come un fatto del tutto naturale. Io approdavo per la verità a Torino alla fine del 43, provenendo da Sanremo, dove avevo vissuto l'angoscia del collasso dell'8 settembre del 43, da ragazzo, in fondo, da studioso, se si vuole, sempre per conto suo, insomma. Arrivavo qui a Torino, cosa volevo fare a Torino? Volevo conquistarla. Ero come Rastignac alla conquista di Parigi, però sapevo che Torino non era Parigi e che io purtroppo non ero Rastignac. Cos'ero? Ero un ragazzo senza fissa dimora che cercava desperatamente di sbarcare il Lunario. Quando io torno a Torino, come anche adesso, mi si stringe il cuore perché penso a tutte le strade in cui ho abitato, mai più di 3-4 giorni, perché non appena i padroni di casa si accorgevano che non avrei pagato la pigione, per carità. Venivo gentilmente, più o meno gentilmente, invitato a lasciare l'alloggio, cioè ad alzare, come si dice, le suola, per non dire di peggio. Questo era Torino, io ricordo via dei quartieri 6, via Pinelli, via Moncenisio, Corso Valdocco. Eh, Torino nel 43 era una città ferita, ferita dai bombardamenti, ferita dalla fame. Si fa presto a dire fame, ma quando una città è alla fame, quando vede il teatro regio distrutto, via Po, la vecchia, gloriosa università dove io poi studiavo, avevo studiato, sia pure saltuariamente distrutto. Nell'area di Torino c'era un acre sapore di polvere e di sangue. La guerra è stata tremenda. I bombardamenti su Torino non erano una scampagnata. Io poi non sempre andavo al rifugio, anche perché spesso i rifugi erano sovrappollati, comunque si arrivava in ritardo. E me ne stavo nella mia mansarda di via dei quartieri al numero 6, una parallela di Corso Valdocco e sentivo sui tetti, sentivo cadere i corpuscoli, sentivo quello scricchiolio sinistro dei frammenti, delle distruzioni provocate dalle bombe. Tutto questo è vero, terribile. Ma per me era musica, perché uscivo dalla mia solitudine, perché la solitudine libresca è bella quando è preparazione all'azione di vita, all'esperienza. Io lo dico da innamorato dei libri, direi addirittura innamorato fisico, sensuale, geloso dei libri, ma i libri non possono sostituire la vita. L'esperienza di vita è fondamentale. Ho avuto agli inizi del 44 la grande fortuna che hanno i solitari. Rispondo, siccome ero veramente assillato dal grande problema di unire il pranzo con la cena, problema secolare, che del resto afflitto, afflitto dovrebbe affliggere molti intellettuali veri, immagino. Guardavo negli avvisi del giornale, a stampa, e trovo che una famiglia vorrebbe lezioni di inglese. Io venendo da Sanremo avevo già tradotto libri dall'inglese, facevo di tutto. E niente, mi precipito a corso Umberto, ma sbaglio di piano, forse nell'ansia di arrivare presto presso questi datori di lavoro che volevano... L'inglese tra l'altro era una lingua che io sapevo in maniera da sordo muto, sapevo 5.000 parole, però se parlavo inglese, gli inglesi non mi capivano, se un inglese parla a me non lo capivo. Sostante, io mi butto, invece di fermarmi al terzo piano, arrivo al quarto, suono, viene ad aprirmi un signore quasi in vestaglia, magrissimo, con gli occhi chiari. Seppi poi che era un ufficiale dell'esercito italiano che aveva contratto l'ameba, se non ero in Albania. Si chiamava Felice Balbo. Io dico timidamente, lei vorrebbe lezioni d'inglese? E' detto no. E come mai lezioni d'inglese? Perché l'inglese? Ma perché l'inglese sarà la nuova lingua egemonica. Parlammo per 48 ore. Io non gli addiedi nessuna lezione d'inglese, ma intanto trovai da mangiare, il pasto caldo che la signora Lola, bellissima, preparò, o lei o chi per lei. e io mangiai naturalmente, sa come mangiano i veri affamati, non di corso, ma facendo vedere che dopo tutto mangiavo per modo di dire, non avevo nessun bisogno, mangiavo per sfizio. In realtà, ero arrivato al momento in cui potevo svenire da un momento all'altro su un marciapiede. Sono entrato in società come era inevitabile, attraverso i libri, incontrando uomini, sempre per sbaglio, devo dire, a Torino, Felice Balbo, presso la casa in Auli, Cesare Pavese, quasi conterraneo, e noi due ci intendevamo a occhiate, perché fra gli uomini della collina, così come fra i montanari, fra i contadini, ci si intende a occhiate, ci volevamo molto bene. E allora insieme abbiamo vissuto la prima esperienza della resistenza. Io sono entrato in società in un momento splendido, con la guerra per cui crollava poco a poco l'autarchia fascista che era isolamento anche culturale e non solo economico e nello stesso tempo con la resistenza antifascista a Torino, sulle colline e poi sulle montagne. Questo era molto bello. qui ho passato alcuni dei momenti più belli della mia difficile giovinezza. Questo era il mio triangolo preferito, vale a dire Piazza Castello, Piazza Carignano e naturalmente Palazzo Campana dove si era rifugiata a lettere e filosofia la facoltà che prima era in via Po a causa dei bombardamenti. e qui in questa stanza io che ero un pessimo studente voglio dire non venivo mai però arrivai con una tesi di laurea già pronta già fatta per conto mio e il mio titolare di filosofia era Guzzo Augusto Guzzo che poi insegnava a via Po 18 dove c'era il seminario di filosofia teoretica dove andava pochissime persone. Lui mi chiamava scherzando ma anche un po' arrabbiato lui era un napoletano lepido ma fino a un certo punto sa che ci sono dei napoletani tremendi mi chiamava il suo clericus vacgans ecco allora e lui rifiutò a un certo punto disse no io non posso firmare questa tesi perché l'era fatta tutta per conto suo non so nulla di sociologia e lui era un crociano quindi raccompro la sociologia noi sappiamo cosa vuol dire per un studente lavorare su una tesi che poi viene rifiutata e l'Abbagnano che era in quella finestra l'aggiù che le diceva il giornale si avvicina l'Abbagnano era di Salerno ma era diventato più torinese dei torinesi si avvicina e dice che è? che è? che succede? e dico ma non mi vuole fermare la tesi su chi? eh mi tosta il verbo ma questo mi interessa molto la firmo io questa tesi io allora con assoluta proprio con veramente devo dire con una prontezza di riflessi che era poi un modo per dire totale maleducazione piantai ignorai diedi la schiena al ballonzolante Augusto Guzzo e cominciai a lavorare con l'Abbagnano l'Abbagnano mi confessò proprio quando io gli proposi di fare il vice direttore altra arroganza incredibile di me ventenne io ero il direttore dei quaderni sociali io ero il mio vice direttore ammise che con la sua idea di esistenzialismo positivo il tema centrale diventava l'uomo in situazione vale a dire non più l'uomo in assoluto e neppure il concetto di persona di tipo diciamo spiritualistico cattolico cioè né croce né gentile né i cattolici che cosa? l'uomo in situazione ma cosa significa? significa l'uomo datato e vissuto significa l'uomo circondato a certe circostanze come arrivarci? con la ricerca solo la ricerca sociologica empirica questa è la cosa che Croce non poteva dire vale a dire solo attraverso una certa se si vuole matematizzazione del comportamento umano un certo studio empirico che serva a validare le ipotesi che guidano la ricerca solo in questo modo l'esistenzialismo positivo poteva avere uno sbocco che non fosse la solita lamentevole e lagna idealistica o spiritualistica Abagnano riconobbe nella sociologia lo strumento che gli dava la possibilità di uscire dalla filosofia tradizionale diciamo pure che la ostilità la detestazione cordiale di Croce contro la sociologia era dovuta al fatto che la sociologia presumeva di potere in qualche modo prevedere il comportamento umano sulla base di una matematizzazione delle ipotesi e questo perché? perché i fatti sono per Croce sempre fatti di coscienza e non possono venire misurati ora io sono il primo a riconoscere che non tutto è misurabile io sono il primo a riconoscere che ci sono delle verità non quantificabili l'amore la morte il bisogno di giustizia certe esigenze che sono funzioni elementari eccetera eccetera ma se noi rinunciamo alla capacità di determinare e confermare empiricamente determinati comportamenti noi rinunciamo anche a comprendere razionalmente il modo di comportarsi degli individui nanno quelle quelle are due finestre delle finestre in cui il nostro pavese macinava i suoi manoscritti rivedeva le bozze, scriveva i suoi testi. Per Pavese era la scoperta dell'America come mondo libero aperto. Per me era la scoperta della sociologia come una scienza che smaschera le falsità del potere costituito. Non dimentichiamo che Pavese aveva tradotto Melville per Frassinelli, aveva tradotto Dos Passos, Big Money, un mucchio di quattrini per Mondadori. L'uomo Pavese era un intellettuale forse oggi scomparso, interdisciplinare, che andava dai testi di antropologia ai testi di letteratura pura. Non a caso io poi tradussi sotto la sua guida o per sua richiesta, diciamo, anche Reich, Theodore Reich, con la prefazione di Sigmund Freud, il rituale, il studio sul rituale dei primitivi. Così come poi traducevo anche Fast, Howard Fast, sciopero a Clarkton, che è stato poi ripubblicato su licenza delle Naudi da Mondadori, anni dopo. Quindi c'era difficile ricreare quel clima, oggi non c'è più, perché era un clima di grandi speranze. Intanto era il clima di quelli che non erano stati uccisi dalla guerra, quindi l'avevamo fatta franca, quindi eravamo tutti dei grandi ottimisti. Non c'era tempo per la depressione. E poi, in secondo luogo, ognuno di noi cercava naturalmente il proprio interesse, ma questo interesse individuale non era mai attuato, concepito, prospettato come nemico dell'interesse collettivo. Si iscriveva in un disegno globale. Questo oggi si è perduto e purtroppo si è perduto, lo si vede anche nella classe dirigente che è frantumato. E di sbiecco, nella stessa stanza, a una piccola scrivania lavorava Natalia Kingsburg. Dalle otto e mezza del mattino fino a sera, continuamente, indefessamente, perché la casa editrice Inaudi è nata proprio come una scommessa contro i poteri economici dominanti di questa città e contro anche il regime politico dominante negli anni Trenta. Questo non va mai dimenticato, così come non va dimenticato il fatto che Donne Kingsburg è morto in carcere sotto le torture naziste. Questo non lo si dimenticava allora, ma si lavorava, seriamente. Noi avevamo, in sostanza, i filosofi analitici, avevamo i nuovi epistemologi, avevamo tutta la nuova critica letteraria da Inaudi. E con Inaudi avevamo anche, finalmente, l'ingresso nella cultura italiana, della cultura russa. Ci noti bene russa, non sovietica. Queste accuse di sovietismo alle Inaudi sono improprie. C'era, con la casa editrice Inaudi, una grande ventata di rinnovamento in tutta la cultura italiana. E c'era, per quanto mi riguarda, devo dire, questa fortuna incredibile di aver cominciato, diciamo, la mia vita intellettuale pubblica, proprio con lei, Inaudi. Dopo la guerra, però, avevo avuto un'intensa esperienza, diciamo, di propagandista per conto della sinistra unita, socialista e comunista, in una vena narco-sindacalistica, in tutto il Monferrato, Alessandria, Casale Monferrato, Ozzano, fra i minatori delle miniere di cemento, vero, del Casalese, fra gli operai della Eternit, nel Rozzone, in un stabilimento che faceva venire il cancro alla vescica, sempre a Casale Monferrato, e poi, naturalmente, ad Alessandria, dove nel 1946 avevo messo insieme un giornale, una rivista per giovani, la generazione nuova, si chiamava La Rivoluzione Umana. Arrivando qui, poi, cosa dovevo fare? Dovevo, in particolare, unire questi vari interessi e farli, in qualche modo, coagulare in un progetto unitario che era la nuova concezione della ricerca sociale come strumento analitico per conoscere la società, al di là dell'ufficialità, al di là del crocismo, dell'idealismo, dello spiritualismo, al di là delle varie retoriche filosofeggianti, far conoscere la società per poi trasformarla. Cioè, c'era un momento analitico e un momento terapeutico che per forza si collegava sia all'università, un uomo come Abagnano, al di fuori del croce, eccetera, esistenzialismo positivo, sia, naturalmente, all'Einaudi, perché l'Einaudi era un crociolo di idee, e, peraltro, si collegava anche con Adriano Olivetti, che mi dava modo di sperimentare sul piano, diciamo, dei rapporti quotidiani, sul piano, quindi, della pratica, la validità di queste idee. Di qui comunità e fabbrica, autonomia aziendale, di qui gli esperimenti dei paesi comunitari intorno a Ivrea, di qui il fatto straordinario, che mentre, a me dispiace doverlo dire, ma è quello che sento tuttora, che mentre Torino restava una company town, cioè una città dominata da un interesse sovrastante, unitario, in fondo, anche se con l'indotto poteva dare l'impressione di una certa autonomia, insomma, la Fiat, con la legittima, ma riduttiva, corsa al profitto, legittima, ma... Ivrea, invece, concepiva la fabbrica come produttrice di beni, ma anche di idee. Questa è la gran differenza. Quindi Ivrea non sarà mai una company town come Torino-Pietro o come la Valdagno di Marzotto. No, il problema è che la proposta di Olivetti, anche con l'edizione di Comunità e poi con la rivista Comunità, che mandavamo a tutti i sindici, i segretari comunali, e poi anche con le... durante soprattutto il 56-58, quando io partecipai con lui alla campagna elettorale, anche con dei fogli locali, io stesso facevo autonomia di fabbrica, autonomia aziendale, poi Comunità di fabbrica, Comunità della Valdera, le vie del Piemonte, erano tutti fogli locali. Insomma, noi volevamo fare un grande movimento culturale e politico che qualcuno chiamava metapolitico. Devo dire la verità a questo punto, perché intanto la si vede, di persone che credessero fino in fondo a questo progetto, che era un progetto pazzo, come dire, cioè era un progetto che riaffermava la funzione sociale dell'utopia, assoluta. Beh, eravamo pochissimi. E avevamo in sostanza questo sogno di un rinnovamento dall'interno della società, partendo dal basso. In realtà la società italiana ha un potere da secoli fortissimo e pesante, perché c'è chi comanda e poi ci sono coloro che comandano quelli che comandano. Il potere a doppia mandata. Terribile. Grazie a tutti. La fabbrica Olivetti nasce come una piccola impresa e nel giro di pochi anni diventa una grande società multinazionale, quindi un grande fattore propulsivo di cambiamento col massimo rispetto sempre dell'ambiente e di se stessa, delle proprie origini. Ecco dunque che questa costruzione è modesta. che però cominciava ad avere contatti in tutto il mondo, America Latina, Asia, Nord Europa, si prolunga poi a poco a poco e diventa questa facciata di cristallo e acciaio, senza soluzione di continuità. E' straordinario pensare che in questo grande edificio che era anche dal punto di vista meramente architettonico, all'avanguardia negli anni 50 e 60, pensare che in questo edificio dove lavoravano migliaia di persone e venivano assunte ogni settimana a centinaia, ogni mese migliaia di nuovi operai, nuovi impiegati. Oggi lavorano poche centinaia di persone. A me piange il cuore evidentemente, perché qui ho dato alcuni anni di attività e forse le energie migliori che un giovane tra i 25 e i 30 possa spremere dal suo essere qui con Adriano Olivetti. La parola licenziamento non esisteva nel nostro vocabolario, non poteva esistere. E la fabbrica esisteva, lavorava e si sviluppava in tutto il mondo solo per la propria comunità di origine. Quindi non c'era alcuna distruzione, alcun cambiamento violento dell'ambiente in cui la fabbrica era nata poco a poco e si era sviluppata. Eravamo di 40 anni in anticipo sull'ecologia di cui oggi si parla. Allora noi non ne parlavamo, la realizzavamo a poco a poco, giorno per giorno, settimana, mese dopo mese, dopo anni. Anni bellissimi. E di fronte naturalmente c'erano i servizi sociali come questi, c'erano gli asili all'avanguardia, erano all'avanguardia perché erano servizi sociali efficienti ma non paternalistici. Non si sentiva mai la mano o l'ombra, arrivo a dire anche la mano benefica e l'ombra del padrone. Il padrone non c'era. c'era questa questa grande realtà tecnica che diventava anche ed era nello stesso tempo tecnica e umana. Queste c'erano le case degli operai, le case degli impiegati. La fabbrica si sviluppava in tutti i suoi settori dai tornitori all'attrezzaggio dove naturalmente come si sa lavoravano i grandi artisti della fresa, del trapano, quelli che aggiustano le macchie. e poi c'era naturalmente la catena di montaggio con tempi mai calcolati freddamente sul cronometro ma tempi al contrario in qualche modo vissuti dall'ufficio progetti e metodi su direzione del presidente e di Adriano Olivetti vissuti come tempi umani. Adriano Olivetti figlio di Camillo io lo avevo incontrato fin dal 48 e con lui francamente ho collaborato fino alla sua morte alla fine di febbraio del 1960 e questa era anche se posso dire anche un po' la mia casa. Il primo incontro con Adriano Olivetti a Torino a casa dei Levi prima moglie Paola Levi non fu molto felice fu anzi più che un incontro fu uno scontro perché io venivo fresco fresco dall'Inghilterra l'Inghilterra laborista con Clement Attlee vero primo ministro Churchill era stato gli avevano dato il ben servito agli inglesi subito dopo la guerra pur avendola vinta e allora Olivetti entusiasta dai laboristi perché lui era Olivetti stranamente era certamente un industriale un grande industriale quindi una persona ricca un capitalista era anche un socialista come il padre Camillo era un utopista era un riformatore sociale e mi diceva vero in questa riunione vero in questa casa amica parlava dell'Inghilterra laborista e io a un certo punto lo interruppi con l'arroganza o meglio l'inconsapevolezza che è tipica dei giovani che hanno viaggiato e che pensa naturalmente di sapere tutto o quasi tutto e dice no lei non ha capito nulla con le nazionalizzazioni del carbone dell'acciaio dei trasporti in Inghilterra la vita degli operai le condizioni effettive della classe operaia non sono mutate per niente per la verità oltre che oltre che non mutate sono peggiorate che non hanno più un padrone contro cui sfogarsi dopo questo incontro in realtà Olivetti forse impressionato vuole rivedermi venne a ricercarmi cosa non facile perché allora non avevo fissa dimora vivevo fra fra Londra Torino un po' Parigi e tutte le periferie di questo mondo in sostanza e trovammo questa splendida consonanza di idee Olivetti aveva già molti intellettuali che lavoravano con lui ma erano tutti intellettuali a mezzo servizio per quanto alle sue idee perché erano anche dirigenti dell'azienda c'era in loro questa ambiguità io ero solo per le idee fu un incontro straordinario e debbo anche dire che in Olivetti se dovessi essere richiesto di dare un quadro sintetico dell'uomo e dell'opera cos'era la sua caratteristica dominante sono certo di un fatto era il rispetto per le idee il gusto per le idee quest'uomo che era ingegnere credo chimico ma e quindi che era un grande industriale dirigente d'azienda amministratore delegato aveva un'enorme capacità di ascoltare le idee idee pure il gusto dei libri il gusto della cultura come tale e quindi ci incontrammo perché all'epoca io non facevo altro che tradurre per conto della casa in Audi e poi pubblicai dei libri invece per la sua casa editrice le edizioni di comunità e ebbi la strana sensazione molto bella di un incontro che era nello stesso tempo politico ideologico spirituale e ideale ci incontrammo sulla strada dell'utopia l'utopia era industrializzare senza rovinare l'ambiente era fare le riforme non predicandole astrattamente come facevano i partiti politici di massa i sindacati all'epoca della guerra fredda ma studiare la tecnica delle riforme non basta parlare di riforme bisogna sapere da buoni tecnici come applicarle e badare anche gli effetti che avranno queste riforme da questo punto di vista io trovavo parlando in maniera un po' egocentrica e me ne scuso ma è inevitabile io trovavo in Olivetti la possibilità di avere una sintesi della ricerca sociale sociologica dell'impeto trasformatore riformatore che era in fondo ciò che io volevo era in sostanza una nuova società e nello stesso tempo lo studio rigoroso accurato delle condizioni di fabbrica di una fabbrica che usciva da se stessa e investiva in qualche modo ordinatamente armoniosamente la comunità circostante si noti che fu questo l'argomento con cui io riusci personalmente Olivetti non c'era in quell'occasione a New Delhi a vincere battere la concorrenza della Siemens parlando con il primo ministro Nehru parlando dopo un quarto anzi venti minuti di silenzio drammatico questa era la tecnica di Nehru per spaventare i suoi interlocutori naturalmente io ne approfittai per fare un piccolo piccolo sonnellino un pisolino perché come riuscimmo a battere la Siemens non certo sul piano tecnico non su quello finanziario ma proprio con l'idea che noi proponevamo la costruzione di una fabbrica dei telescriventi attraverso una joint venture tra Olivetti e il governo indiano presedute da Nehru il presidente dell'epoca il primo ministro dell'epoca il vicepresidente era Radha Krishna il nostro interlocutore senza alterare gli equilibri della comunità tradizionale progresso senza rotture progresso senza violentazione in sostanza eravamo dei 40 anni in anticipo sulle odierne discussioni dell'ecologia e dell'equilibrio ecosistemi perché quando si dice capitalista industriale con una sola parola si dicono più cose due in particolare c'è il capitalista che produce produce beni servizi per la comunità naturalmente anche per il proprio interesse perfettamente legittimo e poi c'è un capitalista di tipo piratesco il capitalista puramente finanziario che è il manipolatore non della materia prima per creare ricchezza ma è il manipolatore del capitale finanziario per produrre altro capitale finanziario soldi manipolati per creare altri soldi indipendentemente senza badare al benessere della comunità qual è oggi la critica che Adriano Olivetti è che noi anche modestamente rivolgiamo le società multinazionali queste arrivano disboscano sventrano l'ambiente miniere fabbrica eccetera fanno i loro soldi e quando non c'è più nulla da spremere fanno le valigie e sempre vanno questo era lo studio di Adriano Olivetti ed era però come si può vedere insomma uno studio ampio adesso mancano i libri che sono andati alla fondazione Olivetti a Roma ma è uno studio ampio in cui si poteva essere isolati concentrati come accadeva anche a me sull'altra scrivania ma nello stesso tempo si poteva dialogare discutere era uno studio uno studio in questo senso anomalo perché qui si discuteva costantemente dell'unione fra libri e anche prassi cioè pratica fra teoria e pratica che era poi e si potrebbe dire anzi non si potrebbe considerare il motto di comunità l'idea di una comunità concreta veniva ad Adriano dal fatto stesso della conformazione geofisica del Canavese il Canavese è un pugno di comuni all'ingresso della Valle d'Aosta tra Torino quindi e l'Aosta che rappresenta una comunità concreta e quindi più che un'idea semplicemente più che un calcolo puramente teorico era era invece una realtà vissuta l'operaio addirittura veniva preso a casa come se andasse all'asilo e portato in fabbrica dai mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Olivetti che così predisponeva anche una rete di servizi di corriera che univa tutti i paesi del Canavese con Ivrea momento non era l'operaio immigrato dal centro-sud era un operaio contadino era un operaio che manteneva il legame col proprio campicello io arrivavo negli Stati Uniti pieno di pregiudizi nel nel 1951 e ci andai anche negli Stati Uniti perché dal 48 avevo incontrato Adriano Olivetti collaboravo con lui ma lui nel 50 aveva avuto un infarto e che cosa poteva fare un addetto alla presidenza come ero io a titolo personale se il presidente è a letto con l'infarto e vado in America contro il parere di Olivetti che mi voleva accanto a sé ma io avevo voglia insomma io non sono stato mai malato di confini sono sempre stato un po' in fuga io lasciavo un posto da dirigente nella fabbrica che pagava di più gli operai e i dirigenti in Italia forse in Europa all'epoca era la Olivetti la Olivetti che si stava espandendo per andare a fare il modesto borsista il lettore così un piccolo professore marginale prima New York e poi a Chicago ma avevo tradotto il libro di Veblen che era stato professore incaricato a Chicago non era mai diventato professore ordinario una carriera molto disgraziata quindi per me nel 51 non potevo non andare ed ero pieno di pregiudizi il primo pregiudizio era che in fondo gli americani facevano le più grosse automobili eccetera ma non avevano una vera filosofia e così via il secondo pregiudizio era che in fondo erano molti innocenti per capire le complessità della storia c'era in questi pregiudizi qualcosa di vero ma ciò che mi colpì subito arrivando in America era la vastità del territorio questo senso di libertà di movimento in senso fisico territoriale dopo essere stati l'uno sull'altro per tanto tempo anche magari nei rifugi le città distrutte ecco lì c'era c'era la vita vita al movimento vita tornato in Italia nel 1953 tengo la prolusione la mia prima comparsa in pubblico nel 1953 alla inaugurazione dei corsi di educazione professionale per assistenti sociali al CEPAS in sostanza parlo di servizio sociale e sociologia vale a dire il servizio sociale importantissimo per la sociologia perché dà a questa disciplina accademica il mezzo e l'occasione di non ridursi a pura disciplina accademica ma di conoscere il mondo reale attraverso i casi specifici il case work il group work i casi di gruppo del servizio sociale servizio sociale come lavoro sociale a contatto con l'umanità diretta di qui naturalmente la sociologia come partecipazione io mi sono reso conto dopo questo mi è accaduto più di una volta nella vita lì per lì non mi rendono casualmente io sono venuto qui per caso conquistato dalla bellezza del posto ma poi ho capito che senza il servizio sociale cioè senza il contatto con la prassi sociale con la pratica di vita la sociologia non è che un discorso vanamente accademico e io devo dire grazie a questo luogo grazie a L'Aventino al suo grande silenzio alla sua bellezza ai suoi campanili romanici grazie a Sant'Anselmo a tutti quanti per avermi in qualche modo fin dall'inizio al ritorno dagli Stati Uniti nel 53 avermi in qualche modo incamminato per il sentiero giusto e stiamo in fondo cercando di capire com'è la vita quotidiana nella povertà la povertà è in realtà un mondo molto complesso che bisogna studiare con calma e della quale bisogna anche comprendere proprio della povertà comprendere i vari livelli i vari stili di vita c'è un primo livello che è appunto quello della povertà vale a dire della povertà dignitosa il povero che cerca di nascondere le toppe nei pantaloni in sostanza la famiglia che tira avanti con i ragazzini sempre ben puliti con grave sacrificio soprattutto delle mamme poi c'è l'indigenza quando veramente la famiglia non ce la fa e allora dovrebbero subentrare gli enti comunali di assistenza perché studiando le borgate siamo riusciti a studiare il potere sociale visto dal di sotto perché ci eravamo accorti che il potere più oppressivo non era il potere che dall'alto diciamo guatava per così dire i subordinati per poi buttarsi su di essi con delle manovre oscure no il potere oppressivo è il potere inerte è il potere che attraverso la sua inerzia dura per sempre durare non dirigere perché se uno dirige deve decidere se decide ottiene risultati cattivi positivi o negativi nefasti in sostanza e allora in base a questi risultati può essere giudicato ma chi non agisce non può essere giudicato perché è fermo intemporale stabile eterno con quali conseguenze? nessuna conseguenza per i vertici sociali perché stanno bene non hanno bisogno di cambiare nulla anzi possono temere che da ogni cambiamento venga messa in pericolo e a repentaglio la loro posizione di vantaggio relativo chi ha bisogno di cambiamento è colui con lei il gruppo sociale che soffre quello bisogna di trasformare la situazione e allora questo potere visto dal di sotto ci ha fatto capire veramente le meccaniche i modi di operare o di non operare del potere sociale io ho sempre sostenuto che la condizione di marginalità è addirittura centrale per il sistema metropolitano nel suo complesso perché chiunque fosse andato in borgata all'epoca in cui noi studiavamo questo fenomeno e avesse seguito le donne gli uomini di mezza età anche i ragazzi e le ragazze durante la giornata e la notte non solo la giornata si sarebbe accorto che i pavimenti i corridoi le stanze dei grandi ministeri la stazione e così via tutto questo era pulito dai dononi delle borgate i servizi fondamentali erano tenuti dai ragazzi e dalle ragazze cioè c'era un interscambio fra centro e periferia che faceva cadere la cesura dal punto di vista funzionale fra centro e periferia tanto che si potrebbe concludere si poteva concludere all'epoca soprattutto che la marginalità urbana è in realtà essenziale per la centralità urbana è cambiato moltissimo già all'arrivo si vede la recinzione della chiesa della parrocchia di San Policarpo che ai nostri tempi in fondo pochi anni fa era il rifugio dei senza tetto entravano liberamente non c'era recinzione adesso tutto è ben recintato pulito manicurato è diventato un palco borghese pienamente borghese e qui invece troviamo ancora le scritte sombrero libero grandi grandi vocazioni rivoluzionari un po' pasoliniane un po' latinoamericane un po' la Feltrinelli comunque sia è cambiato tutto è irriconoscibile e però noi sappiamo che i poveri che erano qua dentro i senza tetto quelli che vivevano qui sotto gli archi protetti da qualche lamiera da materiale di riporto che trovavano per me in maniera molto suggestiva in questi archi dell'antica Roma trovavano il rifugio la casa della Roma moderna modernissima la Roma dei ceseri la Roma dei papi la Roma dei poveri una volta l'acquedotto felice per la vita infelice ci sono ancora sono diventati di nuovo invisibili erano invisibili quando erano qua giù ci volevano dei sociologi per andarle a stanare sociologi che naturalmente non fossero legati alla logica del mercato perché qui nessuno pagava per parlare dei poveracci e dove sono oggi bisognerebbe andare a Spinaceto all'Idroscala Ostia Nuova tutti hanno l'antenna parabolica perché desiderano mantenere i contatti con le loro lingue noi venivamo qui avevamo anche qui un problema di lingue le loro lingue erano abruzzese napoletano siciliano cioè era negli anni 60 la immigrazione italiana centro meridionale adesso invece in queste nuove isole di immigrati abbiamo l'immigrazione extracomunitaria qui tutto è cambiato e stranamente per quanto riguarda le condizioni di sopravvivenza tutto è rimasto lo stesso ma altrove altrove direi una prima osservazione di metodo l'insegnamento della sociologia oggi non può essere impartito al modo tradizionale in cui si è insegnato latino greco filosofia storia così via perché implica anche l'esperienza della ricerca sul campo questo questo significa che la nostra università le nostre facoltà dovrebbero attrezzarsi e non lo sono ancora in modo tale che ogni corso soprattutto i corsi avanzati a un certo punto ogni corso lascia le aule universitarie e va incontro alla vita se posso esprimermi in termini un po' romantici questo studente noi dobbiamo insegnare l'arte della demistificazione di un certo punto di un certo punto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.